Si chiama Josef Ejark ed è considerato un vero guru della promozione turistica a livello mondiale e la città di Fano ha deciso attraverso l'assessorato al turismo di affidarsi a lui per i prossimi anni per poter rilanciare il brand Fano nell'universo dell'accoglienza. Tanto per darvi la dimensione del personaggio Ejark basta la parola Expo Milano o Olimpiadi Invernali di Torino 2006 e subito si capisce di cosa sia capace per non parlare di città cosmopolite come Barcellona e l'ente del turismo della Corugna che hanno affidato al destination manager le sorti delle loro fortune turistiche. E da oggi tra queste grandi c'è anche Fano che porterà avanti questo progetto anche grazie ad un importante contributo della regione Marche. Viviamo veramente un momento molto delicato e quindi abbiamo bisogno in modo forte di accelerare sulla ripartenza di far ripartire tutte le nostre imprese, tutto il settore del turismo ma anche altro. Non solo, la città ha anche bisogno di acquisire una forte consapevolezza e capacità di penetrare i mercati. In questi anni è chiaro l'intento di crescere in ambito turistico per tutti gli investimenti che sono stati fatti della città e che verranno fatti, vedi il Pincio, vedi il Via Garibaldi, ma gli investimenti che si vogliono fare sul Waterfront ed altri ancora come il Sant'Arcangelo. Vedi tutto quell'humus associativo che sta crescendo e sta dando vitalità a tutte le caratteristiche della città di Fano. Tutto questo va messo insieme per poter penetrare al meglio i mercati. Ecco, per fare tutto questo abbiamo scelto una persona del calibro di Joseph Ejark. Veramente una persona molto qualificata che ci deve far fare quel salto di qualità e quindi ci deve aiutare in questo momento di grande difficoltà a ripartire, ma soprattutto poi ci dovrà aiutare con un grande piano di rilancio del turismo. A settembre convocheremo gli stati generali del turismo proprio per far sì che tutto questo abbia un senso, che ci sia un percorso partecipato con tutte le imprese, le associazioni culturali, con tutti gli stakeholder del turismo, quindi albergatori, imprese turistiche.